Siamo vicine alla riapertura, come vi state organizzando? Allora, noi ci siamo presi un attimino di tempo, non abbiamo riaperto il 26 aprile come ci è stato permesso, perché riapriremo martedì 3 maggio, perché vogliamo ampliare un attimino gli spazi, vogliamo organizzarci in una maniera per lavorare bene, viste le condizioni che ci sono state imposte, visti i divieti, visti gli orari e tutte queste cose, il tempo, mettiamoci anche quello, abbiamo cercato di allungare un po' i tempi di apertura per queste motivazioni. Ci saranno alcune novità in programma? Alcune novità sì, ci sono, perché apriremo la piccola dispensa, che non è altro che il bar sempre nostro della dispensa Ferrari, per rilanciare una piccola ristorazione nella quale non eravamo preparati, cioè pranzi veloci, aperitivi, piatti meno impegnativi che quelli del ristorante. Perciò ci stiamo preparando per un format nuovo da rilanciare. Come vi sentite? Insomma ci sentiamo preoccupati perché i tempi sono questi, perciò dovremo affrontare delle problematiche che non sono facili adaguarsi a questo. Secondo lei quanto incide la mancanza di spazi all'esterno? Incide parecchio se rimane proprio che dobbiamo lavorare solo all'esterno, poi io spero molto che ci diano la possibilità di lavorare anche con l'interno, perché i posti all'esterno sono molto limitati. Beh guarda, è ormai da mesi che ci prepariamo per finalmente la riapertura. Non sono stati mesi facilissimi, comunque l'abbiamo pensata, abbiamo molto spazio, quindi siamo riusciti a gestire un po' le cose con due spazi esterni totalmente e con uno spazio che è comunque chiuso da una struttura, una struttura chiusa dove è molto riparata in caso di vento, di pioggia e tutto, si riesce comunque a fare il servizio. Dovrà rimanere comunque aperta da un lato, però insomma arriveranno anche dei funghi per riscaldare un pochino l'aria perché da quando abbiamo riaperto le temperature sono scese, insomma è un po' la ciliegina sulla torta, comunque dai cerchiamo di essere ottimisti sempre, anche se non siamo stati aiutati come voi sapete da nessuno finora, insomma però dai cerchiamo di andare avanti e siamo comunque contenti perché ci sono già stati dei temerari che in queste due sere sono venuti all'esterno, c'era un po' freddo però sai offri un amaro, offri una grappa, speri che si riscaldano ma sono stati contenti. La gente capisce, è molto carina comunque. Beh l'estivo non ne ho e poi il tempo comunque non è che porti, che la gente mangi fuori. Io continuo a fare il servizio di mensa dal lunedì al venerdì, mensa aziendale, alla domenica faccio l'asporto tipo rosticeria e aspettiamo a giugno quando ci danno il via per riaprire, insomma. Non ho spazio da estivo, ecco tutto qua. Quanto incide secondo lei lo spazio all'esterno? Beh insomma se uno ha un bellissimo estivo e un bel gazebo strutturato bene magari qualcosina può fare, però secondo me a noleggiare tutto quanto per aspettare che venga su non si sa quanta gente, non so quanto il gioco possa valere la candela, ecco. Tutto qua insomma. Come vi sentite? Stuffi, stanchi, amareggiati, depressi. Speriamo sempre che le cose possano cambiare, ecco tutto qua. Ci siamo preparati con l'estivo, però siamo in balia ovviamente del tempo e quindi finché chiamano pioggia non si siede nessuno fuori. Nel frattempo la parte interna la usufruiamo con il servizio mensa, ovvero per chi ha la parte dipendente di aziende. Un po' faticoso, però si cerca di ripartire pian pianino. Quanto incide secondo lei la mancanza di spazio esterno? Incide, oddio, incide particolarmente anche perché qui non avevo un spazio esterno, quindi ho dovuto ricreare tutto da zero, ho dovuto ricreare e speriamo che sia corrisposta alla richiesta, ecco, speriamo. Come vi sentite? Un po' affranti, un pochino a volte anche demotivati, però a volte la voglia di ripartire è più grande, ecco, di essere affranti, quindi si cerca di ripartire in tutte le maniere possibili. È già venuto qualche cliente? Sì, sono venuti e sono tutti però a servizio mensa, nessuno ha la carta momentaneamente, perché il tempo non lo consente. Finalmente si riapre, come vi state organizzando? E niente, venerdì metteremo fuori il nostro estivo, come l'anno scorso, e speriamo nel tempo, basta. Intanto stiamo lavorando a pranzo con le partite ive dei nostri clienti che hanno da sempre, da vent'anni che siamo aperti con i nostri clienti e niente. Alla sera, per il momento, non sappiamo se aprire o chiudere perché, visto il tempo, sarà dura, però dai, speriamo. Continuate con l'asporto? Continuiamo con l'asporto, sia che lo facciamo arrivare a casa, che lo portiamo noi, oppure se lo vengono, possono vengono a prendere. Non c'è tantissimo, però noi ci siamo. Speriamo che cambino la situazione un po' per tutti. Quanto incide, secondo lei, l'avere lo spazio fuori? Tanto, è una bella cosa, anche perché visto che ti devi o così o così, noi siamo un po' penalizzati perché averlo dall'altra parte della strada non è il massimo. Però l'anno scorso hanno risposto molto bene, speriamo anche quest'anno. Speriamo solo nel tempo perché poi la gente poi ha voglia anche di star fuori, di uscire. Speriamo solo nel tempo. Come vi sentite? È un po' giù, molto giù, moralmente è molto giù. Anche perché le spese sono tantissime, bisogna pagare, abbiamo affrontato fino adesso, però bisogna ripartire, in un modo o nell'altro bisogna ripartire. Speriamo in bene, non so, io auguro a tutti i miei colleghi e anche agli altri che ripartiamo tutti assieme, che ci tiriamo un pochino più sul morale perché così siamo abbastanza demoralizzati, però dai, passerà, come dicono, passerà, speriamo. Grazie. Grazie a voi, troppo gentili.